Ciao a tutti ragazzi, siamo qui a K24 e stiamo spessando Matteo del De Iene Andiamo in discoteca, sembra una frase come tutte le altre, la più semplice no? Sabato è festa, domenica non si va a lavora e tutti vanno in discoteca, in verità? Ciao ragazzi, buona notte, sono Santi, Luana Sei dove è K24, in discoteca, non vedi qua vicino? Oh, credo che puoi andare in discoteca e andare in discoteca Oh, grazie Nonostante questo sia K24 e nonostante la serata sarà sicuramente una serata bellissima Magari non sarà così, perché pioggia, strade che non vanno bene, buche, procioni che attraverso una strada Cinghiali, fagiani, conigli, insomma, un casino Come andrà a finire? Non si sa, dicono che le liste erano piene E questo già è buono Adesso, tra circa un'oretta, vi diremo com'è andata A presto A presto A presto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti